Buongiorno e bentornati. 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 Chieti ancora a Fraticelli il poeta che racconta la teatinità. Ed ora edizione dedicata alla provincia di Teramo. Vediamo in spalla Teramo, uffici finanziari allagati, il gelo rompe un tubo, elezioni, sette seggi alle due liste PD in provincia, Roseto fatto esplodere Bancomat della Tercas. Nel taglio basso il bilancio in provincia, in calo gli incidenti mortali, l'anno scorso 21 vittime, erano state 28 nel 2015 e poi il calcio Teramo ok al ritorno del regista Amadio. Edizione dedicata alla provincia di L'Aquila, vediamo sciame sismico, le notti insonni di alto a Terno e poi strada parchi paghi il suolo pubblico. Marsica, docente more tamponato sull'autostrada. Nel taglio basso incertezza sui candidati, L'Aquila verso il voto, viaggio negli schieramenti, il climatologo Visconti, mancano visione e programmi. Sul Mona, l'odissea di Anna, nata dopo la corsa tra la bufera. Ed ora il messaggero, freddo killer, in apertura amore in casa, Lanciano, si spegne il caminetto, Ersilia Bruno di 85 anni, non aveva altro per riscaldarsi. Trovata in fin di vita dal nipote, inutile ricovero, avvasso salvata donna, semi assiderata. Poi la fotonotizia a Roccaraso, Anas sotto accusa per la chiusura della statale 17, neve e polemiche, bufera in alto sangro. Pescara, Gilardino sarà un grande girone di ritorno. Il collegio di garanzia del CONI conferma, resta la vittoria a tavolino a Sassuolo per 0 a 3. E poi in spalla, vediamo il credito a ex carichieti, il TAR respinge i ricorsi degli azionisti. Vasto, un virus letale per i capodogli. Ed ora la città, il quotidiano della provincia di Teramo in apertura con le elezioni provinciali. Di Sabatino vincitore in ostaggio, il centrosinistra vince 7 a 5, ma è spezzato in due. Gatti furioso con i traditori di Brucchi. E poi la fotonotizia, scuole chiuse ancora, così il titolo, leggera allerta neve, i sindaci non rischiano più. Giuliano Vantelli in giunta, per D'Ignazio il patto ideale. Martinsicuro al voto, due galli nel pollaio del centrodestra, poi Castrogno detenuto, muore in cella, disposta all'autopsia. Contatori gelati, uffici allagati, evacuata l'agenzia delle entrate, case coi rubinetti a secco. Università EZS, Teramo Capitale della Veterinaria, nel libro di Stanislao e D'Annunzio. E poi l'invito di Trump, botte da orbit tra Sgarbi e il trio Il Volo. Ed ora passiamo alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Vediamo dal Corriere della Sera in apertura le alleanze, quindi un colpo ai 5 stelle in Europa, così il titolo rivolta nei liberali di Aldestop, l'ingresso del movimento Grillo, il sistema trema. E vediamo ancora in centropagina invece la fotonotizia maltempo, l'ondata di freddo continua, disagi in molti istituti, cappelli e coperte in aula, l'Italia delle scuole al gelo. In breve vediamo liste pubbliche dei grandi debitori. Il governo apre e poi la vita spericolata dei messaggi vocali. In alto invece il commento sulla rivolta e il titolo in apertura. Un'idea che svela la crisi di identità, la politica, i nostri studenti dimenticati, CISL, l'ora dei video dossier. Passiamo alla Repubblica, UE porte chiuse a Grillo. Liberali europei bocciano l'intesa proposta dal leader del Movimento 5 Stelle, un movimento contro l'unione tra i grillini scoppia il caos e finisce sotto accusa a Casaleggio. Ora chiediamo scusa a Farage la politica ancora sinistra, Pisapia lancia a Boldrini e ancora in centro pagina il discorso di Meryl, i tweet al veleno di Trump. Nel taglio basso il racconto noi nel giardino Rai come erbe da estirpare è ancora la donna che perdona nel nome del malamore. Vediamo il messaggero, Grillo lo schiaffo dell'Europa, i liberali bocciano l'ingresso nel gruppo a Strasburgo, l'inutile, l'ok via web dei militanti Movimento 5 Stelle, niente garanzie, quindi lo shock di Grillo, processo a Beppe e Casaleggio. Il caso Campidoglio, Marra, resta in carcere, pericoloso, i consiglieri alla Raggi, ora svela le chat. E poi la soluzione, scontrini, Marino non commise reati ma fu superficiale. I titoli in spalla invece, 1925-2017, addio a Bauman, lo scopritore dei valori liquidi. Mossa strasformista per quanto riguarda il titolo dell'editoriale, la sconfitta personale del leader. E poi in centropagina, Nola, la foto, l'ispezione dei carabinieri nell'ospedale senza lettighe, malati curati a terra, sospesi i medici. Banca, il governo apre sulla lista dei grandi debitori a Palazzo Chigi, giusto rivelare i nomi degli insolventi. MPS ai dipendenti, per ora vietato diffondere l'elenco. E freddo e polemiche, aule come freezer, gli alunni romani rimandati a casa. Il fatto quotidiano, figuracce o è rivolta dei liberali sulla giravolta dei Cinque Stelle, gli iscritti al blog approvano l'ingresso in abde che però dice no. Curzio Maltese, un passo falso che confonde gli elettori del Movimento Cinque Stelle. Scarica Barile, in centropagina, guerra per banche, così il titolo, per salvare se stessi i banchieri dell'Abi, rinfacciano i crack ai debitori. La lobby del credito chiede le liste di chi ha avuto i finanziamenti. E nomine alla Guardia di Finanza, arriva il fedelissimo di Toschi, inchieste che scottano il colpo del Giglio Magico. I falsi ancora sull'appalto truccato di Expo Sala sarà indagato per altri sei mesi. In centropagina altri titoli, da Gabrielli a Patuelli, l'arte di mettere le mani avanti. Noi e i terroristi, vincerà chi avrà più coraggio e meno paura. Cia nel 1987, Shasha non fu profeta, ce l'aveva con Borsellino. Il caso, nel taglio basso, il leghista ama il tricolore. A Reggio Emilia accorciata la bandiera. La stampa, Europa a schiaffo dei liberali a grillo, troppe differenze, non vi vogliamo. La replica, bloccati dalle establishment. Il colpo di scena dopo il voto dei militanti, che sul sito della Lider avevano dato il via libera all'operazione. Lavoro, il Job Act funziona meno, cresce la disoccupazione. E poi in Libia, migranti, terrorismo e petrolio, prima intesa dopo Gheddafi. In centropagina la fotonotizia, per quanto riguarda lo sciopero della metro, che ha paralizzato Londra. Ed ora il giornale, ci pensa il giornale. Lo Stato non paga la protesi al poliziotto che ha perso la mano. E i medici rischiano il posto per i pochi letti in ospedale. Così l'apertura del giornale, appunto. Mentre in centropagina il titolo sulla beffa europea, Grillo, si svende, ma nessuno lo compra. In spalla vediamo il Monte Bianco in Sardegna. E lo specchio della scuola è ancora suicida a 14 anni, per dirci che il matrimonio è una cosa seria. Governo disponibile a far rivelare, vediamo, si parla di banca, quindi del Monte Paschi. Tutti i nomi, se la legge lo consentirà, intanto mette il silenziatore ai dipendenti. E ancora nel taglio basso, turisti arrestati in Thailandia. Le bandiere non si offendono e in Italia un islamico su quattro fa il tifo per la guerra santa. Passiamo all'unità, mandiamoli a scuola, così l'apertura. I liberali d'Europa respingono i dilettanti grillini. In 24 ore volevano passare da Paraj all'Alde. Nella capitale non riescono a riscaldare le scuole bambini rispediti a casa per il freddo. In centropagina la fotonotizia, le relazioni pericolose, migliaia di persone bloccate al gelo dai muri d'Europa. L'unità e la CGL è con il cuore che si cambia. Questo è il titolo e poi ancora il ruolo del sindacato. La CGL non sia il sindacato dei no. Renzi prepara il PD, nuovi dirigenti al voto a giugno. e poi il caso a Nola, malati in terra, intervengono i carabinieri all'ospedale. Poi il referendum su voucher e articolo 18. Domani la Corte decide. Il tempo, il quotidiano indipendente in apertura, l'inchiesta. I senatori lavorano tre ore al giorno. Ecco i dati dell'impegno in aula dei parlamentari. Nel 2016 meno sedute e proposte, ma le ferie sono aumentate. Tra estate e Natale è quasi due mesi, eppure c'è anche chi produce. E poi in centropagina la fotonotizia cellula Isis nel Lazio. Indagini top cigarette a Roma, la caccia dell'antiterrorismo. Figuraccia europea di Beppe è Grill Exit, il no dei liberali ai 5 stelle. Ritorno in classe con il ghiaccio, la capitale da brividi, gelo a scuola, bimbi a casa. E poi la bomba del credito di Siena. Il governo tira fuori i nomi dei grandi debitori di Montepaschi. Nel taglio basso aiutiamo l'artificiere ferito. Ecco l'Iba dell'agenzia Unicredit a Firenze. Libero in apertura Montepaschi, quelli che Banca Italia ci nasconde. I primi nomi dei debitori, il monte, ai dipendenti, guai se fiatate. Ma Libero svela alcuni tra i cento grandi finanziati che non rimborsano l'istituto. Forza Italia pressa il PD, una legge per conoscerli tutti, l'avvocato, sono soldi nostri, non c'è privacy. Chi ha spolpato le banche in meno di 600 hanno fatto sparire 22,5 miliardi. E poi in centropagina Minniti ricicla il patto Berlusconi-Ghedafi. In migrazione abbiamo perso sei anni. In spalla, lo disse anche Draghi, il debito pubblico è esploso per colpa di Europa ed Euro. Poi la promessa ai lettori, non molleremo. L'editoriale di Vittorio Feltri, così titola. E ancora, gli amici di Monti scaricano i grillini, salta l'accordo. Per il liberale di Guè, Movimento 5 Stelle è impresentabile. La gente deve pagarsi la protesi della mano persa. L'assicurazione non risarcisce l'artificiere ferito dalla bomba a casa Pound. Politicamente scorretto, Miss Finlandia più nera che bella. Questo è un altro titolo nel taglio basso del quotidiano. Poi il manifesto. Vediamo in apertura la fotonotizia. I promessi giovani, così il titolo. Senza freni, la disoccupazione giovanile corre, arriva al 39,4% alla vigilia della sentenza dell'Alta Corte sui tre quesiti della CGL. L'Istat fotografa la drammatica condizione del lavoro e la conferma del naufragio del Job Act. E poi il referendum tra i quesiti sulle fondamenta della Costituzione. Roma-Tripoli, pur di fermare i profughi, si torna al vecchio patto siglato con Gheddafi. Europarlamento, doccia gelata per Grillo, no dei liberali all'ingresso dei 5 Stelle nell'Alde. E poi all'interno, terremoto, lo Stato ci ha abbandonati, ancora Israele e Palestina, per l'attacco Netanyahu. Si gioca l'Isis, Russia-Usa, Putin alla CIA e caccia alle streghe. E dopo l'attentato, perché Gerusalemme non è Nizza né Berlino, addio al teorico della società liquida, poi nel taglio basso. Il mattino, Nolan, la notte della vergogna, malati curati a terra e due morti nel pronto soccorso in Tilt. La procura di Napoli indaga, sospesi i tre dirigenti dell'ospedale, l'ira di De Luca. Licenziateli, il ministro invia i carabinieri del NAS. Il commento, cambiare subito perché davvero non se ne può più. E poi il focus, medici di famiglia in vacanza e caos 118, il flop dell'emergenza. In spalla, Ue schiaffo a Grillo, no dei liberali a Movimento 5 Stelle. Troppe differenze per fare gruppo, inutile referendum sul blog, base in rivolta. L'analisi che titola smascherati i due leader delle nozze per l'interesse. Lo show, Maradona e premi FIFA, sono pronto per lo spettacolo. Diego, Napoli, arrivo, voi fidatevi di Sarri. E poi, sempre a Napoli, rischio crack, l'allarme del comune. 120 milioni, pignorati. Nel taglio basso le interviste banche, l'issa nera solo per le aziende. Il garante della privacy sui cattivi debitori. Bauman, l'ultimo maestro di umanesimo, muore a 91 anni. Il sociologo che teorizzò i rischi della società liquida. Ed ora a venire il fatto. In apertura vincere la pace. Il Papa ai diplomatici. Equa distribuzione delle risorse. E sviluppo fermano anche il terrorismo. Camion come arma da Israele all'Egitto. Ancora in centropagina l'addio a Bauman. Oltre l'era liquida. E ancora UE salta l'accordo con i liberali. Ah, del Movimento 5 Stelle. Ora resta solo. Il gazzettino. Vediamo schiaffo a grillo in apertura dei liberali europei. Fuori il Movimento 5 Stelle. L'abbiamo visto e in centropagina. Credito Popolari Venete. Ecco i risarcimento tra 4,5 e 6 euro per azione. I soci di Veneto Banca. E 9 euro a quelli dei BIP che rinunciano a far ricorso. L'operazione che vale 600 milioni. Sarà valida se otterrà l'80% delle adesioni primi no dei consumatori. E poi nel taglio basso la storia. Strappano le bandiere. La bandiera tailandese. Arrestati due giovani alto tesini. Scusateci. Hanno detto da noi il tricolore. Non è così importante. Il secolo XIX liberali porta in faccia a grillo. Vediamo che la ribellione appunto all'accordo in Europa. Il capo Movimento 5 Stelle fermati dall'estamice. che ha dichiarato grillo. Poi dopo l'ok dei militanti 5 Stelle. Bocciatura sorpresa nel gruppo di Verostad. In centropagina. Neve su Istanbul. L'odissea degli italiani. SOS pendolari. Abbonamenti annuali ai treni. Via libera al pagamento a rate. Italia-Libia ancora c'è intesa sui migranti e terrorismo. Missione di Minniti. Cooperazione anche sul petrolio. Il fenomeno in spalla come essere single e vivere felici. 8 milioni in Italia. Liguria dà record. Il caso ancora avvocati genovesi rotta sulla periferia a caccia di clienti. Passiamo alla gazzetta del mezzogiorno. Il conto salato della neve. Distrutti interi raccolti agricoli. Il ministro presso lo Stato di calamità. Emiliano a Santeramo. Lo Stato dovrà risarcire polemico. Il sindaco. E vediamo ancora, vengo anch'io, not to no, l'euroschiaffo a grillo. Così il titolo della gazzetta del mezzogiorno. E poi in centropagina, anzi nel taglio basso, vediamo Frecciarossa, Capolinea Bari. Trenitalia lascia a terra il Salento. Da domenica 15 soppresso il collegamento Milano-Lecce. La verità, infine, banche, nomi e cifre dei grandi debitori. Publichiamo l'elenco che tutti cercano. I 600 milioni alla sorgenia di Benedetti. 200 al gruppo della BTP. La lunga lista dei prestiti che hanno rovinato. Montepaschi e altri istituti sono alle prese con Macchini, Bellavista, Caltagirone, Fusillo, Boscolo, Casale, eccetera, eccetera. E c'è anche Verdini. In centropagina la foto parla il PM. Gratteri, così Napolitano mi ha tenuto fuori dal governo. In spalla, sito bloccato, buona scuola, un accidenti, iscrivere i figli è impossibile. Credito malato, aspettiamo da un anno l'inchiesta promessa. Lo Stato non paga le cure alla gente ferito, il SIULP, il sindacato. Non siamo assicurati, aperta sottoscrizione per Vecce, che rischia di perdere l'occhio. Vediamo ancora rinnovare il liberismo, il nuovo modello di welfare che crea ricchezza per tutti nel taglio basso. Invece i maschi non sono più in grado di fare bambini, l'era della sterilità in Europa. Invecchiare bene, il topo può ringiovanire a breve. Toccherà a noi. Questi erano i titoli del quotidiano La Verità. Ci fermiamo con la nostra rassegna stampa per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Acura di InMeteo.net. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6. Passiamo alla lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali dal centro, quindi l'edizione dedicata a Pescara. Abbiamo visto la prima pagina. Passiamo alla pagina dedicata alla regione. Vediamo in apertura la politica in lutto. Addio Crescensi, primo presidente della regione. Morto a 86 anni a Pescara, il politico democristiano, che fu anche parlamentare d'Alfonso, perso un amico. Quieti, un intellettuale è un punto di riferimento. In breve vediamo credito. Ubi Banca si avvicina a Carichieti, poi nasce in Abruzzo la rete al femminile per quanto riguarda il sociale. Nel taglio basso il caso, i capodogli uccisi da un virus pubblicato l'esito delle analisi sullo spiaggiamento del 2014 a Basso. Ed Alfonso incontra col diretti, agricoltura, due tavoli su cinghiali e confidi. Pescara, il maltempo non si ferma, i serbatoi restano secco, scuole chiuse, le scuole superiori. Più di mille interventi dell'ACA per fronteggiare la rottura di contatori e impianti. E vediamo su questo articolo il servizio di Francesca Romanatessi, appunto sulla nuova allerta neve e le tante difficoltà nella nostra regione. Un weekend all'insegna delle emergenze e degli interventi su tutti i comuni messi in difficoltà da neve e ghiaccio. Località isolate, problemi di fornitura elettrica e difficoltà di approvvigionamento a causa dello stop per i mezzi pesanti. La protezione civile abruzzese stila un resoconto delle ultime 48 ore e lancia una nuova allerta per l'arrivo di una nuova ondata di maltempo. Un weekend all'insegna di diverse criticità che al momento sono state tutte superate, inclusa anche quella del tema della viabilità, almeno nella tarda serata di ieri si è un po' tornata alla normalità, agevolati anche dall'aumento leggero, ma ancorché sensibile, delle temperature. Il problema è che comunque siamo ancora in allerta meteo, anzi per il pomeriggio, tanto pomeriggio e serata, si prevede una ripresa delle precipitazioni e un contestuale abbassamento delle temperature. ciò ovviamente non può farci dormire da soli tranquilli, quindi noi, le province, tutte le strutture preposte, la salvaguardia con l'umità delle persone, sono in stato di massima allerta. Quali sono state le difficoltà? Si è parlato di interruzione del servizio elettrico, si è parlato anche di difficoltà per quanto riguarda il rifornimento idrico oggi, qual è il quadro? In talune zone d'Abruzzo abbiamo dovuto riscontrare purtroppo questa ormai quasi latente situazione delle linee elettriche, parlo dell'Alto Vastese in particolar modo, ma anche dell'Alto Sangro per quanto attiene il tema della viabilità, su cui credo gli enti proposti dovranno agire in maniera più puntuale e soprattutto al passo con i tempi e con le emergenze che ormai possono davvero prevedersi come sono state previste in questa occasione. Ed ancora vediamo con commercio protesta, sal di flop, il sale andava sparso prima della nevicata. Nel taglio basso arriva il gelo dei Balcani e porta altra neve, il meteorologo De Palma annuncia precipitazioni per oggi e domani, giovedì temperature più alte. L'altra emergenza, porto, fondali troppo bassi, scatta il divieto di uscita, ordinanza della Capitaneria, pescherecci fermi, oggi nuovi rilievi dei fondali. E ancora doppio blitz, ladri in comune e la sesta volta in due anni, la notte scorsa i malviventi sono entrati all'URP e all'ufficio Tributi, ma hanno trovato soltanto cibo e pochi centesimi. L'inchiesta per omissione, mare sporco, il sindaco rischia il processo, oggi l'udienza preliminare a carico di Alessandrini e del Vecchio, l'accusa, non vietarono il bagno nonostante i liquami. Il rito di nomina con l'arcivescovo Don Achille Parroco a San Giuseppe. In centropagina coinvolto anche Mascia, oggi comincia l'udienza e per la sede della regione in 15 sotto accusa per abuso. Case sulla Riviera Sud, il comune ci ripensa e fa votare il progetto, l'assessore Diodati, il 16 gennaio porteremo in consiglio la proposta di Pescaraporto ritirata dalla Commissione. E l'altra delibera, lunedì approda in aula anche il mercatino dei senegalesi. Scontro sul bilancio, la lista Teodoro ha presentato 1.500 emendamenti, polemica sui conti, il centro-destra, mai causato all'ente il predissesto. E la sicurezza Palazzo di Giustizia, il tribunale con la siringa scoperto dal metal detector da ieri è attivo un solo ingresso da via Lofeudo, sbarrati tutti gli altri e dalle borse spuntano fuori piccoli coltelli, forbicine e persino un cavatappi. Periferie in arrivo dal governo, 18 milioni di euro. Rotaract, 5 borse di studio per i cervelli più talentuosi, domande entro il 31 gennaio e ancora in via Vespucci, Alvaro Vitali, stasera al Grand Canyon. Vediamo ancora a Francavilla, strade pulite con una squadra di volontari, cimitero chiuso anche oggi per neve, 21 alunni in classe con le stufette, Francavilla unica tra le città, riaprire le scuole. Luciani, abbiamo già risolto il problema di una caldaia rotta alla primaria. Sirena, demoliti, altri 5 mila euro. Il Movimento 5 Stelle attacca il sindaco sulle spese per il materiale informativo. Cepagatti, colpo di fucile, cacciatore ferito, incidente sul fiume, mano fratturata a un 39enne di Torre Vecchia. Montesilvano, vediamo, circonvalazione, tunnel, assenso unico. Anas conferma la chiusura della galleria I Pianacci, a breve il piano per alleggerire traffico e inquinamento nella zona di Ranalli, il comune intanto affida i lavori per un nuovo svincolo al cimitero. Picciano, trasparenza atti comunali, bagar in consiglio, frazionamento dell'ufficio disabili, consigliere di Stefano interroga il sindaco Maragno. A Montesilvano ancora, nel taglio basso, Sant'Antonio, due giorni di festa con gli amici a quattro zampe. Tittoni Smokin-Brioni per il Golden Globe 2017, l'attore e doppiatore sottotintense ha scelto un abito della Maison Vestina per la cerimonia di premiazione delle star di cinema e tv a Beverly Hills. E altri due giorni di vacanza per gli studenti, penne breve tregua del maltempo, ma le scuole restano chiuse. Caramanico Terme, sci alpino, pienone, il centro termale registra gli arrivi di appassionati della montagna dal nord Italia. Popoli, volontari sociosanitari, un nuovo corso, l'oreto a Prutino, S.O.S. e per tacco, Vigl di sette mesi, si è perso. Chieti viveva sola e al gelo in casa. Muore di freddo. La vittima è una donna a Montazzoli. L'anziana si sente male e non riesce ad accendere il bracere. A basso i carabinieri salvano dall'ipotermia una 67enne caduta sul ghiaccio. Vediamo anche oggi, da Chieti a San Salvo, scuole chiuse e poi nel taglio basso, la Dio Ammucciante, docente di vita, Ateneo in lutto per la morte improvvisa della Glottolonga. Domani i funerali. L'Aquila, pescina, tragedia sulla 25, professore muore travolto da un'auto, docente universitario a Chieti, si ferma in una piazzola per riposare e un'altra vettura lo tampona. Sciame sismico e notti insonni per tanti aquilani dopo la scossa di 3.4 della scala Richter tra il pizzo di Barete e l'esperto del pinto, lontano il ritorno alla normalità, ha detto. E ancora Sulmona, noi e Anna e la corsa in ambulanza nella tormenta, i genitori della piccola raccontano l'odissea, una storia lieto fine con il parto in ospedale. Teramo, emergenza maltempo, nuovi danni, tubi spaccati, allagati gli uffici finanziari, il gelo è la causa della rottura di uno scambiatore sul tetto dell'edificio, rimandati a casa tutti i 200 dipendenti. Crack di Mario, di Matteo va a processo, chiusa con 33 rinvia giudizio l'inchiesta sulla bancarotta per l'ex presidente Nisi, si decide a settembre. Fanno esplodere il banco, Matt, danni per 100 mila euro alla Tercas di Roseto. Ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, la città, vediamo le pagine interne, abbiamo visto la prima pagina, quindi nella pagina dedicata alla regione, more di freddo davanti al caminetto, la notizia della donna purtroppo morta a Montazzo, Lino Nersilia, 85 anni, ha passato la notte a meno 10 gradi, ricoverata in ospedale, è morta per ipotermia. E l'incidente mortale, prof travolto e ucciso nella piazzola della 25, era fermo per riposarsi. Maltempo, scuole chiuse a Teramo, allagamenti e blackout, evacuata l'agenzia delle entrate per la dottura di un tubo, si torna tra i banchi a Roseto, ma senza bus. Ed ancora vediamo la motorizzazione bloccata dal ghiaccio, niente spazzaneve e spargisale, i tir si imbarcano lungo la discesa. A Giulianova, piano neve flop, chiesta la testa della Guerrucci, il comune soddisfatto della gestione, ma troppe strade sono rimaste ghiacciate. E crack milionario, l'ex DG Tercas a processo Antonio Di Matteo, coinvolto nelle bancarotte dell'immobiliarista Molisano Raffaele Di Mario Castrogno, detenuto 31enne, trovato morto nella sua cella. La tragedia muore suicida, lasciandosi cadere dal Michelangelo. E la Camera di Commercio di Teramo Lanciotti, l'erede del Cavalier di Sante, il vicepresidente eletto al vertice dell'ente camerale, con 22 voti su 24, sarà lui a guidare la fusione con l'Aquila. Il report del terremoto, 12 famiglie rientrano nelle case popolari comunali a Villa Ripa. E ancora il lutto, folla rito laico per Cesira D'Innocenzo, alla casa del mutilato, l'ultimo saluto alla sovrintendente Teramana. Vediamo ancora elezioni provinciali di Sabatino, un vincitore in ostaggio, il centrosinistra vince 7 a 5 sul centrodestra, ma la spaccatura nel PD rende Mariani, ago della bilancia. Il Consiglio, due anni fa, finì in pareggio con la vittoria di Renzo, siglata da un patto con il nuovo centrodestra. Stavolta vince il centrosinistra, ma l'insidia alla maggioranza viene all'interno e dall'opposizione su questo articolo. Ci fermiamo per vedere il contributo video di Tania Bonnici-Castelli. Lo spoglio delle schede per l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale di Teramo si è appena concluso. Gli ultimi conteggi sono in via di definizione, ma il primo dato che emerge è la vittoria schiacciante del centrosinistra, che si aggiudica almeno 7 consiglieri su 12. Le liste che hanno partecipato sono state 3. Forza del territorio, di centrodestra, che legge 5 consiglieri. Direzione futuro, del PD, che se ne aggiudica 2. e la Casa dei Comuni, lista di centrosinistra che fa capo al presidente Renzo Di Sabatino, che ne porta a casa 5. A queste elezioni di secondo livello a Teramo ha votato oltre l'88% degli aventi diritto, ma a questo punto ci si chiede quale sia il futuro e il ruolo delle province dopo il no al referendum costituzionale. Il futuro delle province, la riforma costituzionale non è stata approvata, vige la Costituzione repubblicana. L'articolo 114 articola lo Stato in province, regioni e comuni di pari dignità, quindi le province non potranno essere questo obbrobrio creato dalla del Rio. Volevamo abolirle, non le abbiamo abolite, il popolo non ha voluto abolirle e quindi bisogna ritornare a fare le province di prima. Il problema è la governance, il problema è creare un'architettura che sia governata, che possa rispondere al territorio, un consiglio provinciale che conti e delle attribuzioni e delle risorse anche, perché oggi le province vivono anche con l'attesa dell'abolizione costituzionale, vivono anche di tagli enormi e riescono a malapena a portare avanti i bilanci ordinari. Ci sono comunque più dati politici che emergono dai risultati delle elezioni del Consiglio provinciale di Teramo. Intanto quello interno al centro-sinistra, che vede la lista del PD, di Ginoblo e Mariani, ottenere molti meno voti di quella che fa capo al Presidente di Sabatino. E poi c'è una mini debacle per il centro-destra al Comune di Teramo. Su 28 consiglieri comunali che hanno votato, 13 di questi hanno scelto il centro-sinistra. E ancora sulle elezioni provinciali, vediamo nel taglio basso, tutti vogliono la vasanella in Consiglio provinciale, nel PD si litigano i meriti per la sua elezione, lei conferma Mastromauro, Pepe di Sabatino. Ancora a tradire stata la lista del sindaco, Gatti chiede una punizione esemplare, salterà Canzio o la presidenza Team? Castellalto, il sindaco di Marco Grande escluso a sorpresa, penalizzato dall'allunamento di tre schede, complotto politico o consiglieri storditi? Andiamo avanti, Martinsicuro, due galli nello stesso pollaio civico, anche Alduino Tommolini punta la candidatura come sindaco per l'area di centrodestra. Alba Adriatica, ieri funerali della Bielorussa, travolta dal treno Merci, rito ortodosso per la donna, trovata senza vita sui binari della stazione Sant'Egidio, chiese chiuse da più di due mesi, fedeli, spazientiti. Ancarano, successo per la presentazione del nuovo libro di Nadia Sideri. D'Ignazio benedice il lapato Mastromauro Antelli, il coordinatore nuovo centrodestra, positiva all'apertura del sindaco, verso una maggioranza differente, più moderata. Il progetto va costruito un contenitore politico che rappresenti tutto il popolo dei moderati. E l'incontro del PD, tanti assenti e poche risposte dalla riunione sull'ospedale, sempre Giulianova, parcheggi a pagamento gestiti dalla Patrimonio alla scadenza dell'appalto esterno, potrebbero essere affidati alla In-House. Nomine rinviate su richiesta di Luciano D'Alfonso, in tre in corsa per la presidenza, parliamo dell'ente porto, di Giacinto, Verticelli e Vasanella. Il caso del volo, Sgarbi contrattacca, ma invitati da Trump per il critico d'arte. Il fantomatico invito alla Casa Bianca sarebbe solo una trovata commerciale. Per il trio, un cantante non è un CD, ma una persona libera di scegliere come, quando e per chi cantare. Il trio dice di aver rifiutato l'offerta di cantare alla cerimonia dell'insediamento del presidente Donald Trump. Pineto ha paltato i lavori per mettere in sicurezza il quartiere dei Poeti. Sul tavolo 400 mila euro per il completamento del canale PONNO, per favorire il deflusso delle acque provenienti dalla collina. Colpo a Roseto, 100 mila euro di danni per 5 mila di bottino. Il bancomat della filiale Tercas di Campo a Mare salta in aria nella notte utilizzato dell'esplosivo. I carabinieri hanno istituito dei posti di blocco, ma della banda di ladri. Nessuna traccia. Pineto al via al centro polifunzionale del progetto teatrale Parole per la libertà. A Roseto, tartaruga marina in ipotermia salvata nella riserva del Borsacchio. Il WWF lancia l'allarme, il numero delle morti aumenta in concomitanza con l'intensificazione delle battute di pesca. Cultura, Teramo capitale della veterinaria all'università, la presentazione del libro di Ottavio Di Stanislao e Luciana D'Annunzio. Vediamo ancora il successo in memoria di Gabriele Marcattili, grande partecipazione alla prima edizione del concorso mostra dedicato al fotografo scomparso lo scorso maggio. E a Teramo ancora Sebastiano Lomonaco, ospite della Notte Nazionale del Liceo Classico. Due giorni ricchi di eventi dedicati al teatro greco nelle aule e nei corridoi dello storico edificio di Piazza Dante. Ed ora passiamo al messaggero, abbiamo visto la prima pagina dedicata alle notizie nazionali e anche la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo. Quindi vediamo le pagine interne del quotidiano, entriamo come detto nel messaggero, passiamo direttamente alla pagina dedicata alla provincia di Pescara. Quindi in apertura le scuole chiuse e i rubinetti a secco, rinviata domani l'apertura degli istituti superiori, lezioni regolari. Oggi solo nei plessi comunali a Pescara, tecnici ACA a lavoro per risolvere l'emergenza idrica, ancora disagi in vari comuni per la chiusura dei serbatoi. La paralisi odissea in cerca dell'autobus fantasma, introvabile il 13 nessuna informazione ai viaggiatori irraggiungibili, il call center e il sito di Tua. E la città degli ultimi, prorogata fino a domenica l'assistenza dei senzatetto con il piano sociale del comune, soccorse 150 persone, 92 ospitate in hotel e 60 al dormitorio della Caritas. Vediamo ancora impennata di vendite il mattone Vale, transazioni aumentate del 34% nell'ultimo triennio, segnali di ripresa per la principale voce dell'economia cittadina. Crescita dei mutui, abolizione di imu e tasi e voglia di seconda casa tra gli indicatori del risveglio del mercato. La sentenza comune in default per tagli illegittimi. I grandi di Pescara e morto Ugo Crescenzi, democristiano che vedeva lontano. E' ancora il giorno dei sindaci, udienze parallele Alessandrini-Mascia, il primo cittadino in carica e il predecessore, compaiono oggi davanti allo stesso gruppo per le inchieste in cui sono indagati. Paura Cepagatti scivola sul ghiaccio e parte la fucilata, cacciatore rimane ferito a una mano. L'emergenza, barelle geriatria, reparto al collasso. La sentenza ha confermato il vincolo sullo stadio adriatico. L'Aquila alloggi al freddo e corsa contro il tempo, mentre si moltiplicano le segnalazioni di disagi dalle U2. L'assessore Capri annuncia interventi, ma bisognerà avere pazienza. Resta risolti i problemi in molte piastre grazie all'opera dei tecnici, resta il nodo della coibentazione dei tubi, servono ingenti somme. La polemica, case da abbattere, osing sociale, l'amministrazione è schizofrenica. I difetti, un'ordinanza vieta l'utilizzo di otto balconi pericolanti. L'inchiesta, Don Paolo, in quella casa non c'ero solo io, si difende l'ex parroco di Pizzoli, accusato dell'omicidio di un anziano prete a Trieste. E in via 20 settembre, avvocatessa investita davanti al tribunale in breve. Sisma, i due cluster che mettono paura, la sequenza di Montereale Capitignano si è aggiunta a quella di Pizzoli Cagnano. Ecco tutti gli scenari possibili, cautela tra gli studiosi, Valenzise dell'Istituto Nazionale di Geofisica, area del 1703 adetto De Luca, zona rimasta silente dopo il 2009, Moretti invece è ottimista. Esiste la possibilità che si tratti della normale evoluzione legata agli eventi Umbro-Marchigiani. I numeri dal 24 agosto a Montereale, 1.000 scosse, 200 a Cagnano. Il caso, campo imperatore, bufera politica per la chiusura dell'albergo in quota. La protesta, forno crematorio, sabato primo incontro pubblico a San Demetrio. A Torin parte invece un grande successo, la strada dei presepi. Travolto è ucciso nell'area di sosta dell'autostrada 25, nell'assurdo incidente perde la vita il docente di urologia dell'Università di Chieti, Tarcisio Paniccia, di 67 anni. Lo vediamo nella foto. In breve vediamo casolari abbandonati, braccianti al ghiaccio, ancora Vezzano. Il caso di meningite scatena la psicosi. Sul Mona il DURC va a colpire ambulanti onesti. Sul Mona ancora scuole, Rebus rientro, oggi gara per i MAPS. Avezzano, condomini senza acqua e crisi idrica. E ancora in breve vediamo furto. Il giovane albanese resta in carcere per quanto riguarda il furto a Pietransieri. Chieti l'ha d'annunzio, fa il pieno di fondi, il miuro aumentato di 3 milioni, il finanziamento annuale all'Università, che quest'anno potrà contare su oltre 91 milioni. Il 26 gennaio, l'ultima cerimonia di Iglio, la Minerva, assegnata a Carmela Rimigio e al generale Giorgio Toschi. La morsa del gelo, emergenza per scuole e acquedotto. Ancora la polemica, provincia, elezioni rinviate, solo buonsenso per Pupillo. Traguardi, l'esempio del modello Chieti per le professioni sanitarie. Caminetto spento, in casa anziana muore al freddo, abbiamo visto. Ancora l'Odissea, semi assiderata in strada, salvata dalla vicina. Avvasto, il calvario di un ottantenne al pronto soccorso. Teramo, provinciale al centro-sinistra, avversari alla resa dei conti, duro attacco di Tancredi. Quando si litiga, tutti vogliono possi, poi si fa come si pare. Il modello Teramo si è sfaldato, Gatti, evidente che qualcuno ha tradito. E poi il maltempo, abbiamo visto gli uffici finanziari allagati, il personale evacuato. E le scuole chiuse anche oggi, compresi gli asili nido. Sulla costa, Enteporto, assemblea rinviata, ma c'è la candidatura Verricelli. E poi, nel taglio basso, Roseto, ladri incuranti del freddo assaltano le notte il bancomat della Tercas. Val Vibrata, nuovo ambulatorio dedicato alle donne. Passiamo alla pagina sportiva. Il Gila, così in apertura, grande girone di ritorno. L'attaccante ieri ha incontrato il mister Oddo. Penso di realizzare a Pescara la rete numero 200. Sono fiducioso, la presenza di Massimo ha influito sulla mia scelta. Pensiamo a giocare una partita alla volta senza angosce. Come detto, ora vediamo il contributo video e quindi le prime parole di Gilardino. Quindi il nuovo acquisto del Pescara. Ha parlato ieri in conferenza stampa. Ascoltiamolo. Sono arrivato oggi e sono riuscito a fare il primo allenamento. Ho trovato tanto freddo e tanta neve, però mi aspettavo questo tipo di ambiente. Ho conosciuto i ragazzi, ho conosciuto il gruppo, ho rivisto Massimo, l'allenatore, che conosco molto bene. È stata subito una buonissima impressione anche per il gruppo e per il centro sportivo e tutto. Sono contento, sono molto motivato, se no non avrei fatto questa scelta e molto convinto che possiamo fare un girone di ritorno alla grande. Con convinzione, con umiltà e con lavoro giornaliero dobbiamo assolutamente fare punti. Anche se sei appena arrivato, la salvezza è possibile secondo te o è ancora troppo presto? Sì, c'è tutto un girone di ritorno. Noi credo, come ho appena detto, bisogna pensare giorno dopo giorno e mettere un mattoncino alla volta ogni giorno per poter arrivare alla domenica e fare i punti necessari per arrivare là. E quindi pensiamo una domenica alla volta. Alberto, buonasera, e volevo chiedere se sei già pronto per Napoli. Io mi sono sempre allenato con la squadra Empoli, credo di cinque mesi e mezzo di aver saltato due allenamenti, quindi fisicamente sono integro e deciderà poi il mister assolutamente in base alla settimana che vedrà le condizioni, le mie condizioni. Ecco, però sto bene, sono motivato, voglia. Perché quest'estate no? Una parentesi, c'è un aggiornamento sul sito del comune di Pescara, è stata prorogata l'ordinanza per la chiusura delle scuole e quindi è prorogata la chiusura anche oggi e domani, scuole chiuse. Continuiamo con la serie D, quindi lo sport, Morgia L'Aquila non ha giocato, ancora Teramo, Amadio o Musacci per la mediana e nel taglio basso. L'Avezzano cambia il main sponsor, Patron Paris lo ha confermato allo stadio. E termina così la nostra rassegna stampa e quindi l'appuntamento con Mattino 6 torna puntuale domani alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.